L'opera di John Singer Sargent sembra perfettamente allineata ai valori convenzionali della rispettabilità borghese. I suoi splendidi ritratti dell'alta società americana, influenzati dalla pittura di Velasquez e Manet assurgono rapidamente al ruolo di veri e propri status symbol del potere di classe. Accanto alla celebrazione della sfarzosa e elegante dell'aristocrazia statunitense, lo sguardo compiacente di Sargent si sofferma sulla rappresentazione dei rampolli di una classe destinata a fare degli Stati Uniti la prima potenza economica mondiale. Il ritratto che vi propongo, realizzato da questo artista, è un olio su tela, misura 127 x 101 cm ed è oggi proprietà della National Gallery di Edimburgo e rappresenta Lady Egnu di Loch Nau. Lo sguardo diretto e la posa informale di Lady Egnu, enfatizzati dal tessuto fluente e dalla fascia lilla del suo abito, assicurano l'impatto del ritratto. Andrew Noel Egnu, un avvocato che aveva ereditato il titolo di baronetto e la proprietà di Loch Nau a Galloway, commissionò questo dipinto della giovane moglie Gertrude Vernon nel 1892. Il dipinto fu esposto alla Royal Academy nel 1898 e fece conoscere Sargent. Lo scultore Rodin lo definì il Van Dijk dei nostri tempi, le commissioni per ritratti si moltiplicano e Sargent gode di una sorta di culto nella società eduardiana. Il ritratto lanciò anche Lady Egnu come bellezza mondana. Lady Egnu diventerà in effetti una bellezza iconica per la società dell'epoca. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!